Terzo e probabilmente ultimo giorno di novità in casa Apple per quanto riguarda questa settimana del Mac, che ha visto all'inizio arrivare i nuovi iMac, trovate il link nelle schede, successivamente ieri i nuovi Mac Mini dove è stato anche riprogettato il design, anche qui il link nelle schede, e adesso oggi si parla dei MacBook Pro. Ovviamente anche qui la nota principale è l'arrivo dei nuovi chip con M4, ma c'è una novità, Apple ha seguito questo schema non a caso perché con gli iMac abbiamo avuto solo il chip M4, con il Mac Mini il chip M4 e quello M4 Pro, oggi conosciamo anche il chip M4 Max. Ad ogni modo vi dico un po' in estrema sintesi quelle che sono le novità principali. Oltre ai nuovi chip abbiamo anche qui l'upgrade delle porte Thunderbolt che abbiamo già visto nel Mac Mini, infatti abbiamo adesso Thunderbolt 4 nel modello base con tre porte invece che due e poi abbiamo Thunderbolt 5 sia nei MacBook con M4 Pro che in quelli con M4 Max. Altra cosa interessante è che adesso la webcam supporta center stage, quindi la funzione che vi segue insomma quando vi spostate. In più in opzione abbiamo il vetro nanotexture, un grande ritorno dal passato dei MacBook che potevano essere impostati anche in questo modo e si può fare su tutte le versioni con più 117 euro. Ovviamente è una cosa che interessa solo una piccola porzione di utenti ma è sicuramente interessante che almeno sia su tutti quanti, insomma non si capiva perché in alcuni casi ci fossero delle limitazioni e anche sull'IMEC in realtà quello base adesso non può avere il vetro nanotexture. Aumenta l'autonomia di circa un'ora in più a seconda del modello e poi abbiamo dei prezzi ridotti in euro. Ora questo è molto interessante perché oltre alla riduzione di prezzo abbiamo per ogni modello un aumento della memoria RAM, chi più chi meno, spesso un aumento dei core sia della CPU che della GPU e alcuni hanno tutte e tre queste cose, cioè hanno aumento di RAM, di core CPU, di core GPU e anche una riduzione di prezzo. Quindi vi ho messo tutte queste cose in una tabella, magari mettete pausa se volete vederla con attenzione, ma vi ricordo che ovviamente c'è il link in descrizione al sito saggiamente.com dove trovate l'articolo in cui c'è anche questo video, a breve lo inserirò, avete questa tabella per poterla analizzare più nel dettaglio. Quindi queste sono le caratteristiche principali dei nuovi MacBook Pro che sembrano particolarmente interessanti non solo per i 16 GB di RAM di partenza che ormai mi sembrava assolutamente una necessità, ma anche perché qui bene o male il modello base costa di meno di prima, parte da 512 GB, insomma diventa un computer abbastanza più interessante. Abbiamo dall'altra parte un MacBook Air che non è stato aggiornato al momento, non verrà probabilmente aggiornato a breve perché l'ultima sua versione è quella con M3, era già del 2024 quindi probabilmente arriverà nel 2025, però nel frattempo Apple ha pensato bene di metterci anche lì 16 GB di memoria unificata a parità di prezzo. Anche questa è una graditissima novità, sicuramente farà scendere la valutazione di quelli in circolazione con 8 GB che adesso non sono più venduti direttamente da Apple, ma per alcuni potrebbero essere anche un buon affare per un uso veramente semplice del computer e al tempo stesso danno la possibilità di dare nuova linfa vitale a questa macchina finché non arriverà quella con M4. Purtroppo sul MacBook Air lo storage di base continua ad essere di 256 GB come sul Mac Mini per dire e sull'iMac che è una cosa che onestamente spero di non vedere più al massimo ecco nella prossima generazione perché è un qualcosa che si deve secondo me superare in fretta. Avrete probabilmente visto fin qui un ringraziamento per i saggi utenti donatori della categoria saggio maestro, sono quelli che mi supportano di più durante il corso dei mesi, degli anni, trovate alla fine del video anche tutti gli altri supporter non meno importanti e se vi va potete aggiungervi anche voi non soltanto per appunto supportare il mio lavoro ma anche perché otterrete in cambio una serie di cose tra cui tutta una serie di video dedicati esclusivamente ai saggi utenti donatori. Con questo è veramente tutto, ci vediamo prestissimo con la recensione dell'iPhone 16 Pro Max che era già pronto in realtà da pubblicare tutto quanto il materiale ma poi mi sono fermato per quest'altro video magari domani facciamo uscire quella review. A presto, ciao! Grazie a tutti!